Sono nato così, con una macchia sul viso a forma di ragnatela. Un medico mi ha detto che sono il figlio segreto di Spider-Man e questa macchia potrei toglierla solo quando sarò grande. In fondo io sono un bambino normale, sono gli altri che non mi considerano normale. Mi diverto molto con mamma Federica e anche quando ci prendiamo per mano con papà e orriamo tutti insieme! Quando ero piccolo, il mio eroe era Pikachu. Adesso che sono grande è Spider-Man, ma l'eroe di tutti i giorni è il mio papà. La grande voglio diventare come lui. Non troverai. Potrebbero risultare contaminati da batteri... Non scherzate. ...e fluoruro di sodio in eccesso. Che succede? Ragazzi! Ado Sam. Ten, là no maще queste t guessedă. Adėa! Adapta! 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 Unde ac via De Urbiадir! Adapta! 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 Grazie per la visione!